Sì, per quanto riguarda gli investimenti che avremo su Benevento città, da quello che diciamo già i dati accolti, nel senso che i progetti che sono stati presentati in larga misura nostra e poi in quelli che abbiamo fatto assieme con le ferrovie e con il Demanio, noi superiamo i 120 milioni di investimenti nella città di Benevento. Se si pensa che Lussemburga ha 93 milioni, dal PNR noi abbiamo 120-130, il che significa evidentemente che Benevento gioca da protagonista in questa scelta e questo devo ringraziare tutti quelli che collaborano con me, i dirigenti, gli assessori, i consiglieri comunali, l'Università di Benevento ci ha dato una mano, l'Asia dal suo punto di vista e poi il Demanio, il RFI con cui lavoriamo e ancora con il RFI sto lavorando per vedere come fare, come metti in opera l'opera tra virgolette di Palladino davanti alla stazione centrale di Benevento. Con l'Asia anche recentemente sono passato stamattina a salutarli istituzionalmente, ringraziandovi per quello che fanno, dal primo all'ultimo operatore ecologico, anche recentemente abbiamo avuto 3 milioni e 2 finanziati da parte del PNR, cioè significa che i rifiuti della città, il fatto stesso che i regali Gambiene ci ponono al secondo posto a un punto d'avellino, ma a notevole distanza tutti quanti gli altri e che l'atto di Benevento, di cui tanto si dice, l'atto di Benevento rifiuti è il migliore che esiste in campagna, siamo a livelli di città medie del nord, questo la dice lunga sull'attività e sulla capacità che si ha nel guidare la città e la provincia di Benevento.